questo lava soltanto questo sbianca ma solo la lana questo va bene solo per il cotone possibile che non esista un prodotto che lava e sbianca tutto lava sbianca signora eccolo qua lava sbianca si usa in lavatrice o nel bucato a mano lava sbianca lava sbianca e rigenera lana seta cotone lino e tutte le fibre bianche perché contiene bianco nuclear il lava sbianca è fantasmatico